Ciao a tutti, purtroppo non posso essere lì con voi, d'altronde vorrei veramente andare in ogni comune a cercare di portare un po' quello che è l'esperienza della nostra amministrazione, ma gli impegni di tutti i giorni ovviamente è difficile dividersi tra l'amministrazione di una città, e voi lo imparerete ben presto quando verrete eletti, rispetto a delle attività che possono essere divulgative. E quindi abbiamo scelto la modalità di questo video per cercare comunque di portare una voce diretta delle attività, di qualche concetto base che mi piacerebbe condividere con voi, e la presenza fisica. Allora, qui mi sono segnato un po' di parole chiave. Una l'ho usata di recente, quindi rispetto a cos'è che distingue un'amministrazione 5 Stelle da un'amministrazione di un partito classico, dei partiti classici a cui siamo abituati, senza scendere ovviamente in quello che può essere un concetto di onestà, di trasparenza, insomma di tutti quei valori che portiamo avanti, proprio nel pratico. È un po' l'applicare il buonsenso alla competenza. Quindi sono i due concetti cardine che anche magari nella scelta degli assessori, se li sceglierete, se siete un comune sufficientemente grandi per sceglierli al di fuori dei consiglieri comunali, dovrebbe seguire questa direzione. Noi due anni fa abbiamo fatto la scelta di prendere assessori che fossero al di fuori, scelti per bando, ma che avessero delle competenze specifiche nel campo in cui sarebbero stati impiegati. Quindi un architetto all'urbanistica e ai lavori pubblici, persone che sono attivate da sempre nei temi ambientali, sul tema dell'ambiente, chi sa di servizi sociali a tutto l'assessorato legato al sociale. Cioè poter abbinare quello che poi sono scelte che si fanno insieme, in giunto, insieme al sindaco, sulle attività da svolgere con delle competenze che possano supportare quello che poi viene detto da diverse associazioni, dalla struttura del comune stesso per poter scegliere al meglio per i cittadini. Questo è un fattore cardine in cui sempre di più bisogna differenziarsi rispetto ai partiti classici che hanno sempre fatto degli assessorati più una spartizione tra liste che non una richiesta, una ricerca della persona giusta nel posto giusto. Ecco, questo è un cambio di paradigma che penso possa differenziarci dagli altri. Un altro punto è quello del programma, far scegliere, condividere il più possibile con i cittadini il proprio programma, perché sostenere semplicemente di votarci perché siamo meglio, perché siamo diversi, è difficile, secondo me, farlo passare perché, insomma, voglio dire, bisogna basarsi sulla parola, mentre un conto è basarsi su una promessa, che è il programma elettorale, che state portando nella vostra città, con un programma che sia il più possibile completo, sulla base di quello che sono le esigenze specifiche della città, ma anche i concetti generali, come ad esempio quello di portare il referendum senza cuorum, di portare il massimo della trasparenza e della partecipazione nelle decisioni, o comunque nel divulgare le competenze e le azioni che vengono fatte tutti i giorni in un comune. Questi devono essere i principi base su cui poi i cittadini sceglieranno e valuteranno loro qual è la scelta migliore, perché le promesse in passato penso si sono state fatte da tutti, del votateci siamo meglio degli altri, voglio dire, le grandi frapposizioni tra destra e sinistra, chi mangiava i bambini o chi era, come dire, una reminiscenza magari del partito fascista, questi slogan sono passati, quello che conta soprattutto per i cittadini sono i fatti, quindi con questi fatti dovete parlare, quindi portare un programma che sia la linea di mandato che si condivide con i cittadini. Il nostro programma è stato uno dei più scaricati di tutte le amministrazioni rispetto al comune di Parma, perché il messaggio è sempre stato, non vi voglio convincere a votarci, voglio convincervi a leggere il programma per scegliere se votarci. E questo penso che sia un fattore molto importante sempre per far sentire la differenza tra quello che è un'amministrazione 5 stelle e un'altra amministrazione. L'altro punto è le istituzioni, cioè il fatto che i cittadini riescono ad entrare all'interno delle istituzioni e quindi portano anche una modalità di approccio diversa alle problematiche, un occhio diverso, magari portando la propria esperienza imprenditoriale o di dipendente o delle proprie competenze professionali, perché svolge una libera professione all'interno di un comune. Quindi guardare quello che diventa poi una routine, una serie di consuetudini amministrative con un occhio diverso per cercare di migliorarle, per cercare di avere dei risparmi o avere maggiori azioni, maggiore efficienza rispetto ai cittadini che sperano veramente in un cambio. E vi assicuro che i sindaci e le amministrazioni sono la risposta che i cittadini cercano e il luogo in cui i cittadini vanno per cercare una risposta. Perché Roma è lontana, la regione è lontana, questi tipi di rappresentanze di fatto non risolvono i problemi di tutti i giorni, mentre vi assicuro che un sindaco e un'amministrazione sono chiamati ogni giorno a cercare di risolvere problemi dal più piccolo al più grande. E quindi è molto importante far percepire anche una disponibilità e un approccio all'ascolto diverso dagli altri. Ultimo punto è quello che porsi come ovviamente chi vuole essere eletto per amministrare una città e quindi confrontarsi con i problemi di tutti, di tutti i cittadini, anche quelli che non ci hanno votato. Essere sindaco, perché se si va all'opposizione è ovvio che si ha più un elettorato di riferimento e quindi più un dialogo anche all'interno di quello che è in contrapposizione con quello che viene fatto dall'amministrazione nel momento in cui troviamo delle azioni che non corrispondono al nostro programma. Ma invece amministrare vuol dire ascoltare tutti, cercare di trovare delle soluzioni che cercano di risolvere i problemi e non tanto seguendo quello che potrebbero essere ideologie come è stato in passato, ma quelle idee che servono nella vita di tutti i giorni dei cittadini. E quindi per questo è importante riuscire a dialogare con tutti e anche in campagna elettorale l'approccio deve essere a questo la maggior apertura possibile, perché in passato abbiamo visto quelle chiusure che derivavano da lobby, che derivavano da associazioni, che derivavano da una provenienza politica molto stretta, il momento 5 stelle che da sempre è sopra, è al di fuori di questi schemi, deve riuscire a dialogare con tutto, ascoltare le istanze di tutti per cercare di, come dire, di distillarle in un certo senso e di applicarle al meglio. Quindi queste sono un po' le linee guida che noi stiamo cercando di perseguire, ovviamente un lavoro molto difficile che si fa tutti i giorni con impegno, vi assicuro che è un percorso che via via migliora il periodo economico, è molto difficile, le richieste che vengono fatte soprattutto ai servizi sociali e ai servizi educativi mettono in difficoltà un'amministrazione che ha sempre meno risorse e sempre più richieste, ma è proprio in questo momento che è necessario guardare con occhi nuovi all'amministrazione e cercare di portare avanti dei programmi che siano ambiziosi dal punto di vista ambientale e amministrativo. Io penso che un concetto chiave dovrebbe essere per tutti di lasciare un comune migliore di come lo si è trovato, dal punto di vista economico, dal punto di vista amministrativo e anche dal punto di vista della percezione rispetto alla cittadinanza. La fiducia nella politica, nel fare un certo tipo di politica, io penso che passi dai comuni e quindi è per questo che vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per le elezioni, per cercare di portare avanti questi concetti e avremo sicuramente modo di avere una rete ancora maggiore di sindaci eletti, di consigliere eletti per cercare di fare quello scambio di idee che da sempre stiamo cercando di portare avanti in termini di idee libere, di azioni concrete per fare veramente una grande rete a 5 stelle in tutta Italia. Quindi di nuovo in bocca al lupo e ci rivedremo dopo che sareste stati eletti.